Ci sono tanti modi per lavorare i tricipiti, sia a casa che in palestra. Uno efficace è una serie legata a tre esercizi, li puoi fare a rotazione, fai dieci, 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 oppure fai tre serie da dieci per ogni macchinario. Il primo lo fai a cavo, se vivegando le gambe, attenzione un pochino alla postura della schiena, non posizioni scomposte, ma al dorso sempre ben corretta la posizione, accosti i gomiti al fianco e porti la massima estensione verso il basso, perché naturalmente il tricipite lavora principalmente per l'estensione del gomito. A seguire fai un esercizio push up, ti appoggi con i gomiti, pieghi i gomiti e risali, anche questo sempre serie da dieci. Poi con un manubrio ti accosci, magari ti appoggi, alzi il gomito e lavora lentamente in estensione, curate sempre l'estensione e la massima flessione. Ottimo abilità dei cibi, ciao!